Inizia oggi da Udine il ciclo di incontri informativi sul nuovo bando di finanziamento ISI 2017 per le imprese che investono in sicurezza, promossi dall'INAIL. I successivi incontri informativi avranno luogo a Pordenone e a Trieste, rispettivamente domani e il 10 maggio. Gli incontri sono realizzati dall'INAIL regionale, ospitati presso le sedi delle Camere di Commercio di Udine, Pordenone e Venezia Giulia. L'obiettivo è presentare ad associazioni di categoria, aziende e professionisti le novità del bando, illustrando le caratteristiche dei progetti volti al miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che consentono di accedere ai finanziamenti INAIL a fondo perduto.